Io sono presidente della SESA e di conseguenza, siccome la SESA è la Copogruppo, poi mi occupo anche della Computer Gross, è un distributore che non è altro il braccio operativo di alcuni vendor importanti che qui vedo a Cisco, HPE, poi avevo visto Silvia Candiani. Quindi ho aiuto a fare, a stare, andare sul mercato della piccola e media impresa soprattutto per conto di questi vendor, quindi mettendo competenze e soprattutto persone. Le persone, per me che sono le cose più importanti in un'azienda, almeno nella mia, sono convinto anche su altre, hanno bisogno di conoscere, prepararsi e soprattutto anche lavorare in un ambiente fertile dove trovano anche delle motivazioni a lavorare, quindi ci sono posti dove è più difficile, posti dove è più facile. Per esempio Genova è un posto che mi ha impressionato, a me parlando con Bucci, col sindaco tre anni fa a mio padre insieme a Enrico, ecco mi sono accorto che Bucci aveva il consenso di tutti quegli operatori che facevano filiera con lui, dal Presidente della Regione, dall'Università, dalla Camera di Commercio, ecco era seguito, era seguito e in effetti è stato creato quindi questo polo anche in maniera estremamente veloce. Io ho fatto un'azienda, che ora c'ha duemila persone, fattura un miliardo e mezzo, quindi non piccola, in un posto di campagna, Empoli, e quello che ho visto nascere qui in maniera veloce da me mi c'è voluto tanto, nonostante anche gli amministratori mi vogliano bene. Io non ho ancora il permesso dal 2004 di fare un parcheggio, invece io ho visto delle cose importanti, fatte non solo il parcheggio ma insomma una struttura e se visitate bene questa struttura vedete che ci sono persone estremamente competenze a lavorare su tutte quelle cose che diceva anche qui la signora, che sono la cyber security, l'analisi dei dati, tutte quelle cose che poi servono a tutti. Quindi un ragazzo che viene qui secondo me trova la possibilità di avere un avviamento, un avviamento perlomeno culturale importante. Poi che ho fatto a Genova? A Genova praticamente io ho fatto, prima di tutto io non seguo il pubblico direttamente, quindi ho la fortuna di seguire le aziende dove tutti i problemi, si diceva prima, non ce l'ho io direttamente perché mi rendo conto che chi lavora col pubblico ha veramente problemi importantissimi, no? Da dire quindi ecco lavorando con le aziende si trova sempre l'imprenditore con cui si dice sì o no, no? E a Genova fra l'altro a maggior ragione è più facile perché a Genova esistono aziende o grandi o piccole, no? Le aziende grandi sono brave perché guardate ve le ci sono rimaste insomma da dire e che sono anche qui sono aziende che capiscono quello di cui hanno bisogno, no? Più che e quindi è una cosa importante. Per le aziende piccole però dove esiste la mia specializzazione ecco secondo me mi stanno seguendo e con un centinaio di persone quindi sono residenti perché per le aziende piccole ma anche per i grandi ma soprattutto per le piccole e medie imprese serve molto la prossimità, no? E la prossimità è un elemento di valore, essere vicini all'azienda, dare supporto e qui in effetti ho trovato persone e cose per poter fare questo che pensa anche di continuare.